Ciao, sono Felicia e oggi mi sento like a femminile, passionale, retro. Ho utilizzato il numero 13 Treatment Shampoo e dopo ho applicato il numero 23 Treatment Conditioner per dare maggiore lucentezza al colore. Ora utilizzo il numero 36 Volumizing Spray per dare corpo e volume ai miei capelli. Ora utilizzo il numero 31 Smoothing Serum per idratare e lucidare i capelli. Ora pettino bene i capelli per distribuire meglio il prodotto. Adesso inizio ad asciugare i capelli. Inizio ad asciugare i capelli. Ora utilizzo il numero 41 Molding Paste per dare separazione e movimento al look. Inizio ad asciugare i capelli. Asciugare i capelli. Inizio ad asciugare i capelli. Inizio ad asciugare i capelli. Grazie a tutti. Compa 드� Peach Sabbathé. Inizio ad asciugare i capelli. ivine fi Hause si circunare i capelli. IA con nousoms. Ma librava. Grazie a tutti.